Falso in concorso il reato che viene contestato a tutti gli indagati, è arrivato l'avviso conclusione indagini per sei per il caso dei falsi dati immessi nel sistema del Ministero della Salute dalla Regione Siciliana. A ricevere l'avviso di conclusione indagini intanto l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, il dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie Maria Letizia Di Liberti finita ai domiciliari e poi sostituita e il direttore del servizio 4 del DASOE Mario Palermo. Ci sono ancora degli altri indagati, Salvatore Cusimano dipendente dell'assessorato regionale, nipote della Di Liberti, Emilio Madonia dipendente di una società privata che si occupa della gestione del frusso dei dati covid e Roberto Gambino dipendente dell'ASPE di Palermo e distaccato al DASOE. Per due degli indagati c'è la contestazione di un altro reato ovvero quello di avere indotto in errore trasmettendo i dati falsi il Ministero della Sanità. Il periodo contestato, quello dal 14 al 20 dicembre ovvero una settimana. Il procuratore aggiunto Sergio De Monti, sei sostituti Maria Pia Ticino e Andrea Fusco hanno chiuso le indagini. I PM hanno confermato l'impostazione accusatoria dunque sulla piattaforma informatica secondo gli inquirenti nei mesi scorsi sono stati caricati dei dati falsi sul monitoraggio dell'epidemia covid. Dati falsi che secondo l'impianto accusatorio avrebbero condizionato l'applicazione del colore di zona alla regione Sicilia in un momento veramente difficile per i contagi. Infatti i PM hanno valutato la vicenda dei decessi che Razza in un'intercettazione diceva di spalmare come non un reato perché non sarebbero stati quei dati ad influire ma il rapporto tra positivi e tamponi. Adesso gli indagati avranno un periodo per difendersi e poi la richiesta di rinvio a giudizio.